La sanità incontra i cittadini, riprende il ciclo di eventi Pienza a Saluto promosso dall'ASNapoli 3 Sud, appuntamenti dedicati alla prevenzione organizzati in collaborazione con i comuni e distretti dell'azienda sanitaria. Si parte da San Giorgio a Cremano lunedì 12 luglio dalle 9 alle 18 in piazza Carlo di Borbone. Durante l'iniziativa, presso il track ASNapoli 3 Sud, sarà possibile inoltre prenotare la vaccinazione anti-covid-19 e ricevere tutte le relative informazioni. Tutti i cittadini che si recheranno presso lo spazio dedicato all'evento, con l'ausilio del personale ASO qualificato, potranno ricevere l'offerta gratuita degli screening del tumore del coloretto, del pap test, la prenotazione della mammografia. Sarà inoltre attivo uno sportello informativo. Per poter usufruire delle prestazioni non occorre la ricetta né la prenotazione. Dopo San Giorgio prossimi appuntamenti 17 a Sant'Antonio Abbate, Largo Sandro Pertini, area sud-est, il 14 a Portici in via Gianturco, presso il parcheggio comunale, il 15 a Pimonte nell'area parcheggio della chiesa di San Michele, il 16 a Poggio Marino in via 24 Maggio, area mercatale, il 19 a Visciano, piazza Langellotti, il 20 a Cicciano in via Gescal, il 21 a Santa Anastasia in piazza Madonna dell'Arco, il 22 a Roccarainola in via Quirino e Silignano nei pressi della scuola San Nicola. Tappa finale 23 a Torre del Greco in piazza Santa Croce. Grazie a tutti. Grazie a tutti.